Ero sicuro avremmo fatto una grande partita e una vittoria che ha un valore doppio ma dobbiamo pensare già al Giuliano. Si è espresso così Vantisci a qualche giorno di distanza dall'importante e prestigioso successo ottenuto contro il Foggia, una gara a cui lui stesso teneva tantissimo essendo un ex. Gratitudine, sicurezza e ambizione, queste sono alcune delle parole chiave dell'allenatore del Cerignola intenzionato adesso a ritrovare il sorriso dopo tempo anche lontano dal Monterisi. Domani sera alle ore 20.45 l'audace sarà di scena al De Cristoforo contro il Giuliano nel match valido per la diciannovesima giornata nel Gironecci di Serie C. Nel posticipo di lunedì scorso si è visto un Cerignola piuttosto attento, compatto e voglioso di portare a casa l'intera posta in palio per una vittoria di rigore firmata Giancarlo Malcore. Un gol per tempo da parte del bomber gialloblu ha condannato il Foggia di Olivieri staccato di tre punti in classifica. Sono ora 25 i punti in graduatoria della formazione gialloblu appagliata in nona posizione proprio insieme al suo prossimo avversario nonché il Giuliano. I campani sono reduci anch'essi da un derby perso però per tre a uno sul campo della Casertana. Un momento, quello vissuto nelle ultime settimane dalla compagine di Bertotto, comunque importante e tale da proiettarla in zona playoff dopo un inizio complicato. Sono state infatti tre le vittorie centrate da Salvemini e compagni nelle ultime cinque uscite di campionato. Si tratterà del terzo incrocio tra i professionisti tra le due squadre. Lo scorso anno 1-1 al ritorno in casa del Giuliano e 1-0 o Fantino al Monterisi griffato dal solito Malcore. È proprio l'attaccante classe 93 e l'uomo inamovibile lì davanti con D'Andrea e D'Ausilio quelli favoriti per quanto riguarda la tre quarti. A centrocampo mancherà capomaggio per squalifica come Mezzali. Sono pronti i soliti Tascone e Ruggero mentre come play dovrebbe essere confermato Bianco. Davanti a Crapicas invece ecco Coccia e Russo come Terzini al centro sicuro di una maglia a gonnelli con Allegrini che al contrario in dubbio la presenza del capitano è da valutare anche se gli esami strumentali sembrano abbiano escluso cose importanti. Dal Giuliano al Giuliano contro i campani l'audace può chiudere il cerchio. Gli ofantini aprirono il proprio ciclo entusiasmante nel calcio professionistico la scorsa stagione domani hanno la possibilità di terminare l'anno solare 2023 con un'altra vittoria. Quella vittoria assente però in trasferta da ormai oltre due mesi.